beh 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 mitici mitici mitiche e siamo a un altro megagioco the speedy d the spidey d come dice grandissimo allora dai questo platino lo farà lui eh lo farà lui premerà lui x 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 è il primo trofeo here comes the mod in inglese ragazzo allora 500 credo che arrivi un altro mega mega trofi all spiders produce silk chissà che non sarà più possibile sarà la rete wow il vegetariano baghiera si chiama il mitico spider spider che è un ragno in Italia a 2000 arriviamo la con l'altro più più meglio che il 3.000 egg uova 3.000 ubbettina jump spider con 50 x the overland grandi ragazzi trofei paurosi 3.000 vediamo se primo è il primo argento not all spider bites hard deadly sentito l'inglese grandissimo di un marco ground game female spada lungo appetito la donna del ragno a grande appetito se pappa tutto oh spider skills strong ma questa è la termina allora è una è una donna è sì che è proprio di sì spider blue blood a sangue blu grande spider non è spider noi ragazzi è che arriva l'altro e penso proprio che sì e penso proprio di sì spider silk e liquido alla silk liquido dice il trofeino argento primo oro main spider to give present spider can juve and uvb be lights some tarantoles there are a predator mamma mia l'inglese incredibolo the mark jumps spider can work together ah lavorano insieme vedi no 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 ci ha un tempo per fare incredibile spider can go finish fishing ahahah pensavo che aveva finito perché non ce la faccio più ragazzi commentare questo video ah ah goliath qui un altro troppo lungo da leggere non c'è mica voglia allora questi giochi sono incredibilmente difficili da platinare eh howl tiles and hot legs boh vabbè non c'ho voglia di leggere il primo pezzo è troppo difficile they like to dance gli piace danzare a questa femmina di ragno e ci sta e ci sta divertirsi anche ragni a gruppo spider of color clutter ora cluster un gruppo di ragnozzi ed ecco the spidee troppi 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 10.000 andiamo a 10.000 andiamo a 10.000 andiamo a 10.000 oh grande e come tutte i games di questa software house prestigiosissima per i trofei veramente incredibile di offensi da marco zan games e il critico si sente zan e boi zan e boi vi saluta noi ci vediamo al prossimo gioco simil platino incredibile nella rubrica nella rubrica che adesso tra un po' ve la ve la diciamo la diciamo con un video finale con un video ciao a tutti ragazzi seguiteci su youtube facebook twitter instagram twitter twitch iscrivetevi mettete mi piace commentate e fate un po' di pubblicità al mio canale così più diventiamo in tanti più diventiamo fichi già siamo un gruppo fighissimo spray giusto come dice il mitico ottimo spray ma piace tanto un camioncino dei transform ciao ragazzi alla prossima ci vediamo alla rubricona ciao amici benvenuti alla nostra nuova rubricona con the spidee di nuovo platino super easy easy peasy l'emosqueasy easy easy eemospeasy e anche io direi anche questa nuova rubrica di trofei stupidanti perché sono trofei veramente stupidi giochi veramente stupidi ma non vi fanno ridere un voto quindi ve ne porteremo un sacco un sacco un sacco alla prossima ciao ragazzi mi raccomando seguiteci ciao